Allora, sono in viaggio tanto per cambiare, questa volta sono ben accompagnata. Buongiorno Pierino. Buongiorno. Un po' imbronciato il ragazzo, come mai amore? Ma no, non sono imbronciato, è il mio tempo. Allora, cosa stai leggendo? Facci vedere. No, sono mail, non so se sono fatto qui. Ah, qua. Le coordinate della felicità. Io nel frattempo ragazzi mi sto preparando in treno perché ovviamente ero in ritardo, quindi questo è il mio stato, vi dico solo questo. Siamo anche arrivati, devo mettervi alle cose. Ho anche fatto sull'altro social un get ready with me qua in treno, se volete andarlo a vedere vi lascio qua il link. E ora vi spiego cosa siamo venuti a fare. Giulia Saleni è tornata sui social insieme al fidanzato Pierpaolo Petrelli, aggiornando i fan sui suoi spostamenti odierni in treno per lavoro. In un primo video messaggio, Giulia si mostra mentre si trucca, salutando i suoi follower insieme a Pierpaolo. Nonostante l'entusiasmo dei fan, la coppia non ha ancora svelato il motivo di questo viaggio. L'attesa cresce, mentre i seguaci di Giulia e Pierpaolo restano in trepidante attesa di ulteriori dettagli sulle ragioni di questo spostamento misterioso. Il duo continua a catturare l'attenzione con la loro presenza social e la loro complicità. Ho anche fatto sull'altro social un get ready with me qua in treno, se volete andarlo a vedere vi lascio qua il link. E ora vi spiego cosa siamo venuti a fare.